parliamo di trasmissione dei carichi allora qui abbiamo una struttura formata da elementi verticali che sono i seguenti e da elementi orizzontali chiaramente è una struttura abbastanza articolata serve ad interpretare come avviene proprio il trasferimento dei carichi no chiaramente diciamo questo che una struttura trasferisce i carichi attraverso quelli che noi abbiamo definito gli sforzi all'interno di questi elementi se noi partiamo dal primo elemento che è quello superiore su cui agiscono le forze F1 e F2 che ho interpretato come un vinco di cerniera carrello anche qui cerniera carrello e anche qui naturalmente queste forze arrivano sulle due colonne attraverso questo flusso diciamo si può interpretare come flusso di questo percorso dei carichi chiamiamola ecco arriva alle colonne attraverso degli sforzi interni che sono quelli che abbiamo visto qua nella in una video lezione precedente in cui abbiamo spiegato che sezionando la trave o l'elemento chiamiamolo architrave e affinché una parte della trave continui ad essere in equilibrio sappiamo che all'interno devono esserci dei vettori che abbiamo chiamato sforzi e che abbiamo visto che sono sforzi normali sforzi di taglio o momenti quindi queste forze F1 e F2 producono all'interno di questa trave delle sollecitazioni interne di taglio momento e sforzo normale che in un certo qual modo fanno in modo che questo carico arrivi alla colonna di destra e di sinistra chiaramente qui c'è un appoggio semplice quindi diciamo che il carico arriverà sulla colonna tramite questa azione diciamo verticale e a un certo punto ci troveremo questa volta con una nuova architrave dove continueranno ad agire delle forze che sono F3 e F4 però teniamo conto che qui abbiamo dei vincoli che abbiamo modellato dice nel carrello ma c'è da tenere conto anche delle azioni che provengono dai carichi F1 e F2 che sono verticali agiscono su questi vincoli quindi in un certo qual modo diciamo che alla fine ci troveremo questo flusso dei carichi e nel senso che qui avremo una reazione che dovrà equilibrare sia i carichi F3 e F4 sia quella che proviene naturalmente dei carichi F1 e F2 idem dicasi per l'ultima architrave dove abbiamo praticamente i carichi F5 e F6 quindi questa volta i vincoli sono posti in A e in B e dovremo tener conto oltre che di F5 e F6 di questa azione che è un risultante se vogliamo dell'azione che deve equilibrare F3 ed F4 e quella che proviene da F1 e F2 e quindi verrà ridistribuito o meglio ci sarà un percorso nuovo dei carichi che perverrà ai vincoli A e ai vincoli B che sono degli appoggi semplici carrello cerniera bene questo è il motivo o meglio questo è un po' l'interpretazione del trasferimento dei carichi che avviene naturalmente in una struttura io qui ho scritto che il trasferimento dei carichi agenti sulla struttura al suolo avviene attraverso gli sforzi che sappiamo sono dei vettori taglio momento flettente torcente sforzo normale che agiscono in termini di ogni elemento strutturale e le forze di contatto tra gli stessi elementi ecco abbiamo parlato di forze di contatto anche tra gli elementi strutturali che interagiscono tra di loro qui abbiamo un esempio di un telaio che è differente come comportamento e come modello matematico naturalmente nel senso che qui abbiamo due vincoli che sono due cerniere quindi è impedito lo spostamento in A e in B se voliamo e qui è la forza F che agisce naturalmente questa chiamiamola F allora diciamo che ecco qui abbiamo una forza F che agisce questo fa sì che ci siano diciamo delle reazioni vincolari in A e in B che equilibrano naturalmente tutto il sistema e qui ho rappresentato dei diagrammi degli sforzi parliamo sempre di sforzi momento taglio e sforzo normale in ogni sezione del telaio sono in grado di valutare quanto vale il momento il taglio lo sforzo normale perché sappiamo che questo carico segue questo percorso attraverso gli sforzi arriva naturalmente a scaricare diciamo l'azione F per terra ovvero sui vincoli vediamo che il diagramma dei momenti va interpretato dicendo che laddove viene disegnato è sollecitata la fibra qui è sollecitata la fibra superiore in questo tratto e qui quella inferiore mentre per le colonne è sollecitata la fibra esterna poi abbiamo il taglio e lo sforzo normale quindi io qui ho scritto il diagramma degli sforzi di un telaio incernierato alla base vediamo adesso un esercizio l'esercizio è di una trave naturalmente caricata con un carico uniformemente distribuito che è il seguente in chilognuto su metro lunghezza L qui ricordiamo che i vincoli sono un modello se vogliamo di una modello chiamiamolo matematico di un vincolo reale no qui c'è una cerniera che impedisce spostamenti verticali orizzontali qui c'è un carrello che impedisce spostamenti verticali ma non orizzontali no e come reagiranno i vincoli beh sicuramente dovrà essere equilibrato questo carico che ha un risultante ricordiamo risultante inteso con un vettore equivalente che sarà applicato nel baricentro del carico diretto verso il basso e naturalmente l'intensità risultante sarà il modulo come P per L e quindi avremo delle reazioni RAY ed RBY che sono uguali e opposte alla metà di P per L mentre RAX è zero il corpo è un corpo isostatico abbiamo naturalmente due vincoli elementari e un vincolo elementare tre gradi di libertà del corpo quindi alla fine sono ben messi i vincoli non c'è movimento cinematico quindi possiamo dire che il sistema oltre ad essere in equilibrio cinematicamente anche diciamo meglio potremmo dire che il corpo è in equilibrio e in quiete sono soddisfatte le due condizioni no non ci sono movimenti cinematici qui stiamo diciamo stiamo costruendo i diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione ricordiamo che come abbiamo spiegato in una direzione precedente questi diagrammi si potrebbero ottenere facendo infine sezioni lungo l'elemento di trave e trovando le reazioni di equilibrio in ogni sezione quindi immaginando che in ogni sezione ci sono dei vincoli cioè se io parto da questa lezione e considero la porzione di sinistra dovrei metterci un carrello ogni volta determinare queste reazioni che produrranno in questo caso sforzi di taglio e momento ora è chiaro che in effetti quello che succede è il seguente e quanto segue diciamo che se io ecco volessi determinare in termini vettoriali gli sforzi in x se considero per esempio il tratto di carico a destra di x sappiamo bene che le forze presenti sono la reazione rb che conosciamo e pl mezzi e questo tratto di carico uniforme che ha come modulo l meno x perché x è questo tratto per p ed è applicato nel baricentro quindi se vogliamo se riduco adesso le forze di destra le riduco sulla sezione quindi significa crea un sistema di vettori equivalenti dovrei dire che sulla sezione agisce un vettore taglio pari a meno rb y meno perché abbiamo spiegato che si guarda questo lato no questo concio rappresenta un pezzettino di trave dove ho indicato convenzionalmente il taglio e momento positivo quindi questo questa rb e discorde quindi la prendo col segno meno mentre il carico che agisce su questo tratto e concorde a questo vettore taglio destro e lo prendo col segno quindi dovrei scrivere meno pl mezzi e più naturalmente p per l meno x che rappresenta naturalmente l'intensità di questo vettore risultante e questo per quanto concerne il taglio per quanto riguarda invece la riduzione come momento dovrei dire che nella sezione x il vettore rb y produce un momento pl mezzi per l meno x e poi c'è da considerare naturalmente il carico uniforme che vale p per l meno x che produce un momento p per l meno x per l meno x mezzi e quindi a questo punto ho determinato le azioni che agiscono sulla sezione che ho fatto in questo punto dovrei fare questo discorso per ogni sezione un diciamo un calcolo a quanto complesso elaborato e quindi si usa un metodo diverso un metodo se vogliamo anche meccanico il taglio in x se opero prendendo per esempio le forze questa volta non di sinistra di destra ma di sinistra sarà area y positivo perché concorde a questo vettore meno p per x che l'ho scritto qui questa è una funzione lineare una retta un'equazione primo grado ricordiamo che pl sono dei numeri quindi rappresenterò questo grafico come un grafico di una retta nel piano cartesiano che è questo asse delle t positivo asse delle x ed è questa retta è una funzione matematica è la funzione sforzo di taglio che ci dice che in ogni sezione il taglio a questo modulo qui si annulla in mezzeria qui è positivo qui è negativo e il più e il meno è a un significato quando noi facciamo riferimento a questo concio che abbiamo assunto come concio dove rappresentiamo convenzionalmente i sforzi di taglio di momento positivi quindi un taglio positivo nel tratto seguente nel tratto delle mezze di sinistra significa che in qualunque sezione il taglio è concorde con questo vettore no mentre il taglio negativo in questo tratto significa che il discorde con questo ma discorde che significa che se io eseguo una sezione in questo punto della trave ecco considerando il lato destro il lato sinistro dovrei disegnare un vettore taglio discorde naturalmente a questo a questo a seconda che considero il lato destro o sinistro della trave ora questo è il ragionamento che facciamo per il il taglio ma per il momento è la stessa cosa se io voglio calcolare il momento in questa lezione considerando naturalmente le se vogliamo la riduzione dei vettori che stanno a sinistra quindi area y e questo vettore p uniformemente distribuito che agisce su un tratto x per scrivere pl mezzi quindi area y per il braccio che è x positivo perché concordi a questo momento meno poi dovrei scrivere p per x per x mezzi se scorriamo la slide vediamo che ho scritto qui in basso la reazione ry per x questo è il braccio meno px e il vettore risultante che agisce sul tratto x quindi è p per x per il braccio x mezzi questa è un'equazione di una parabola parabola che ha la concavità di volta verso il basso ma ricordiamo che nel nostro riferimento però è quale riferimento che adoperiamo per disegnare questo grafico questa volta il diagramma dei momenti è rivolto verso il basso quindi significa che la funzione è questa quindi con caità di volta verso il basso io sto disegnando questa funzione è una funzione quadratica ma ha un significato profondo non è solo una funzione matematica sa indicare che in ogni sezione ho il modulo del vettore momento massimo in mezzeria nulla agli estremi è ovvio perché abbiamo un carrello una cerniera non potremo avere diverso valore e quindi un momento importante al centro quindi una trave che se dovessimo progettare dovremmo considerare il momento della mezzeria no perché lì che abbiamo il massimo dello sforzo interno di flessione mentre per il taglio ricordiamo che il contrario ce l'abbiamo all'estremità a e b il taglio della trave è un taglio importante un taglio alto quindi diciamo che la trave con carico di partito ha un momento massimo in mezzeria taglio massimo agli estremi è nullo al centro della trave quindi qui correggiamo quindi diciamo che è nulla al centro della trave ok schema di equilibrio e relazioni e reazioni vincolari anche qui correggiamo reazioni vincolari reazioni vincolari allora vediamo un pochino ehm vabbè qui abbiamo una trave appoggiata quindi trave appoggiata che è questa eh si vede che appoggiata agisce una forza F in mezzeria e naturalmente lo schema è il seguente a livello di rasservimento di carichi abbiamo la stessa trave dove agisce un carico che lo riporto che questa questo carico qui è naturalmente che abbiamo chiamato F ok quindi se questo carico vale F noi abbiamo praticamente qui F mezzi F mezzi e poi sull'appoggio abbiamo una reazione per il terzo principio la dinamica uguale a contrario F mezzi F mezzi questo è il trasferimento dei carichi nell'appoggio di questa trave su due ehm pareti diciamo no scorro la slide comportamento trave colonna e telaio vediamo queste due quindi trave colonna e telaio sono due modelli strutturali differenti quindi qui abbiamo se guardiamo due colonne questa trave sottoposta da un carico F che si inflette e qui se rappresentiamo quello che succede come interazione trave colonna abbiamo una reazione RRB agli appoggi qui abbiamo carrello cerniera ma sulle colonne viene esercitata l'opposto della reazione in modulo eh cioè nel senso è un vettore che ha lo stesso modulo ma verso contrario quindi i due sono due vettori hanno lo stesso modulo verso contrario quindi questo è il modo in cui vengono ehm diciamo scaricate le 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 forze se vogliamo sul sul suolo no? E se scorriamo la slide per esempio questo è il modello matematico di quanto rappresentato quindi eh cerniera carrello indica l'appoggio della trave sulle due colonne le reazioni sono la metà di F quindi F mezzi F mezzi e qui finisce eh il modello di trave appoggiata sulle colonne se passiamo invece al telaio la situazione cambia questo è un telaio lo vediamo perché qui abbiamo due cerniere questo elemento è un unico elemento e questo fa sì che l'applicazione della forza F crei questa inflessione di questa trave superiore producendo un momento quindi sollecitando queste fibre superiori e questa inferiore e quindi se vogliamo se consideriamo questo elemento di superiori trave vincolata alle colonne questa volta non c'è un appoggio vediamo che oltre alle reazioni R che sono pari ad F mezzi ci troviamo con dei momenti che inflettono le fibre superiore abbiamo detto no qui e qui questi momenti noi ce li troviamo anche nelle colonne quindi va detto che ci troviamo questi momenti anche nelle nostre colonne no quindi dovremmo pensare che se avessimo rappresentato in basso le colonne avremmo momenti opposti sulle colonne quindi diciamo che in questo caso nel comportamento a telaio diciamo che essendo la trave rigidamente collegata alle colonne come meglio agli estremi le colonne tendono a impedirne le rotazioni cioè mentre prima potevamo osservare che la rotazione della trave avviene molto molto liberamente le colonne non impediscono niente in questo caso se scorriamo la slide la colonna impedisce la rotazione non la fa ruotare in maniera libera e questo impedimento avviene esercitando questa questi momenti m no le colonne tendono a impedire le rotazioni pertanto il giunto rigido che questo trasferisce sia le forze che i momenti flettenti alle colonne con questa ultima slide terminiamo la video lezione a cui ne seguiranno altre fine della video lezione